salve a tutti sempre carini di giallotto serale allora la settimana scorsa abbiamo fatto abbiamo sempre vinto qualcosina ma non tanto almeno le spese così giochiamo gratis anche questa settimana e speriamo che facciamo un colpo questa settimana i numeri sono da giocare 12 13 26 42 69 e 75 78 e poi questi sono sette numeri poi altri 5 14 15 16 69 73 76 scusate allora io ho messo come capo gioco il 69 e poi se volete unirli tutti insieme scegliete dieci numeri come solito come faccio dio scegliete dieci numeri da giocati e buona vincita a tutti ok speriamo bene questa settimana adesso pubblico quindi un day anche dice all'otto anche l'otto sempre per tre colpi no million day rimani da lunedì alla domenica e la settimana scorsa abbiamo vinto solo due volte poco ma va bene questa settimana adesso metto altri per tutta la settimana di million day speriamo bene buona vincita e buon dicembre a tutti grazie 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 a tutti